Qui all'interno della Caravan Bacci troverete un market di articoli per il tempo libero. Tempo libero non vuol dire solo accessori per il camper o per la caravan, ma anche per la nautica, per il giardino o anche semplicemente per il terrazzo di casa. Elencare tutti i prodotti presenti nel nostro negozio è veramente difficile. Abbiamo tutti i prodotti per la pulizia, sedie e tavoli dal giardino, barbecue, generatori portatili, tutto quello che serve per la vita all'aria aperta in camper o in caravan. Qui nel market Caravan Bacci trovate un assortimento di tende da campeggio, cuscinotti e gazebi pieghevoli, adatti per il giardino ma anche per un uso professionale, per mostre o mercatini. Abbiamo anche abbigliamento per il tempo libero con il nostro corner Patagonia. Il nostro obiettivo è offrirvi la maggiore varietà di prodotti al prezzo più vantaggioso. Veniteci a scoprire! Grazie!